Si tratta di questi 27 centesimi a metro cubo su ogni metro cubo consumato da ogni utente, quindi si tratta di circa 6 milioni di euro in tutta la Toscana e 100 milioni di euro nel territorio nazionale. Ancora nuovi aumenti nella bolletta dell'acqua è quanto stabilito dall'autorità per la regolazione, a denunciarlo è il Comitato Acqua Pubblica. Una sorta di contributo che tutti gli utenti dovranno pagare per costituire una sorta di monte premi da destinare poi ai gestori che si distingueranno in un miglioramento della qualità tecnica dell'offerta del servizio ai propri utenti. Arera, l'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, con una delibera ha stabilito la maggiorazione delle tariffe mediante l'introduzione in bolletta della nuova componente UI2 sui consumi d'acqua del 2018. Sono pochi spiccioli, diciamo 5-6 euro all'anno, però il problema è che di questo passo va a finire che noi non abbiamo più la possibilità di avere un interlocutore che risponda politicamente a queste storture perché noi riteniamo che con le bollette che paghiamo già e con le tariffe che paghiamo il gestore sia già obbligato a darci il meglio della qualità del servizio, anche tecnico e di tutto il resto.